Bella a tutti Fortniteers, benvenuti su Lantube, in questo video andiamo a fare l'incarico infliggi danni con una beccata di pollo degli incarichi attacco aviario Allora una zona con molti polli è tutta questa qua giù intorno, diciamo, ce ne sono molti qui da queste parti, anche qua su vicino alla laguna lustra ce ne sono molti Ma li troviamo un po' in tutta la mappa adesso soprattutto, perché ci sono le missioni dei polli Quindi atterriamo e andiamo a cercare un pollo sperando di trovarlo velocemente Vediamo, vediamo se si vede già qui, magari, siamo fortunati Non per il momento, eccolo qua, eccolo qua, uno, lo andiamo subito a prendere E andiamo a fare la beccata, prendiamo solito con la X Non so se ce la faccio Preso, ecco qua Adesso ci dirigiamo qui, stavo allontanando un po' Ok, andiamo lì, dove ho pingato Ok, mi stanno attaccando, ora vediamo se riesco a dare la beccata Vediamo un po', andiamo qui Oddio qui è chiuso, devo trovare un passaggio Che non posso abbassarmi Ok, eccola qua la porta Ecco qua, vediamo un po' Ecco qua, dato la beccata, avete visto? Però non ce l'ha conteggiata Ok, non ce l'ha conteggiata Sì, c'è la conteggiata, andiamo a vedere Potete farla verso gli avversari O anche attraverso O anche verso i giocatori O verso gli NPC O anche verso gli animali A questo punto, basta che tolga danno Andiamola a vedere E vedete che infatti non ce l'ho più Perché me l'ha considerata Se il video vi è piaciuto, mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo Nei vostri social Con i vostri amici Non dimenticate di lasciare Un bel commento E se vi va, come sempre Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere gli aggiornamenti Ciao a tutti Ciao a tutti